Buon pomeriggio e buon inizio di serato in questa penultima domenica di ottobre. Partiamo dalla MotoGP, top 10 ordine d'arrivo del Moto Gran Premio di Aragona in Spagna. Primo Rins, secondo Alex Marquez, terzo Mir, quarto Vignales, quinto Nakagami, sesto Morbidelli, settimo Dovizioso, ottavo Kraschlov, nono Miller, decimo Wanzarco, classifica del Moto Mondiale, Mir 121 punti, Quartararo a meno 6, Vignales a meno 12, Dovizioso a meno 15, Nakagami a meno 29, Morbidelli a meno 34, Rins a meno 36. Poi passiamo al calcio, partiamo, facciamo così, dalla Serie A femminile, un attimo che la regia mi mette la grafica, allora, allora ci siamo, allora sì, per quanto riguarda la la Serie A femminile, Milan Inter 4 a 1, Bari Juventus 0 a 4, Fiorentina Verona 0 a 1. Andiamo su alla Serie A maschile, Serie A maschile, gare terminate da poco, allora, Bologna, Sassuolo, come nel video precedente abbiamo detto, 3 a 4, Spezia, Fiorentina 2 a 2, rimonta dallo Spezia, Torino Cagliari 2 a 3, alle 18 Udinese Parma, alle 20 e 45 Roma Benevento, e ora andiamo a raccontare quelle che sono le classifiche dei campionati. Partiamo come ho fatto per le partite, quella femminile, in testa la Juve, 6 su 6, 18 punti, segue il Sassuolo a 16, terzo Milan a 15, quarto Empoli a 12, Roma a 11, Fiorentina a 9, Inter 7, Florenza a 6, Verona a 6, Bari a 3, San Marino a 3, Napoli a 0, Serie A maschile, in testa il Milan, 4 su 4 a 12 punti, Sassuolo a 10, Atalanta a 9, Napoli e Juve a 8, Inter 7, Verona a 6, Benevento a 6, Sampdoria a 6, Roma a 4, Fiorentina a 4, Cagliari a 4, Spessia e Lazio a 4, Genova ma con 2 gare in meno a 3, Parma a 3, Bologna a 3, Crotone in 4 gare, un pari, 3 sconfitte, ancora a 0, Torino e Udinese. Quindi per il momento è tutto, credo che chiuderemo le giornate di oggi sul mio canale YouTube con il resoconto delle partite di eccellenza con la Vigor Trani della seconda categoria con la SD, città di Trani. Grazie a voi tutti, alla prossima e buon proseguimento di domenica. Ciao!